Questo esposto che messaggio porta? Cosa vi ha spinto a farlo? Noi abbiamo depositato sabato scorso un esposto alla Procura perché indaghi e verifichi che non ci siano delle rilevanze penali delle mancanze dei rischi della sicurezza dei cittadini con riferimento al sito di Muraglia che è esondabile, è franoso, è un terreno sabbioso che si può sfaldare. Quindi noi oggi lanciamo un appello forte a tutte le forze politiche e ovviamente alla città, a chi vorrà fare una petizione popolare, insomma a tutta la città di bloccare questa variante che comunque fa parte di questo progetto che ovviamente noi la condanniamo in toto ma comunque viene vissuta come una contropartita perché appunto l'ospedale verrà costruito forse a Muraglia e io direi che insomma per coerenza, che in questi giorni molti hanno parlato di coerenza penso che la coerenza vada dimostrata nei fatti, noi il nostro slogan è la sinistra non si dice ma si fa, abbiamo fatto qualcosa di concreto.